Io ti ho invitato già, eh? Eeeh, sì! Il capitano delle rabi! È tornato ed è più caldo che mai! Il fenomeno! Qual era? No! No, qual era il mio main? Era lui! Giuseppe Ferrara! Ok, su che mappa siamo? Ok, sta mappa è il maestro l'esame, eh? Ma capita! Il fenomeno! Yes! Yes! Mi fido! Parte subito il maestro! Vabbè, ma è facile, sta qua! Maestro subito, preciso, incredibile, quasi cattivo, la sbaglia! Madonna, sto costretto a piatte! Che palle! Le bet! Buono! Questo è il potere di Sir Philip Wade, spara 6 stecche a random! Hai visto quante ne ho prese? Frate, allora, se non ha messe... Allora, se la situazione è questa, significa che uno qui sta per forza! La mano ti invita a una... Reggevole calma, si va sopra? Non ti so dire, bro, non... Vabbè, regia, ma sto scherzando! Ma insomma, ma sei tipo... Ma come... Di ancristalse quei passaggi! Ma sì! Affondata la... La... Elmarzone! Qui, questa è l'altra da due messa in orizzontale! No, deve essere per forza lunga! Aspetta, me faccio una foto prima che... Me dispiace averte le prese tutte insieme! Ok, mi suicido! Broken! Dai, ragazzi! Oh, porco di Dio! Allora, regà, sappiamo tante cose nuove di questo ragazzone! Sicuro sappiamo che ce n'è una qui! Se ne secondo me potremmo andare verso sotto! Perché io sono sfortunatamente costretto a chi... Prendimi una strogomina! Dai! Oddio, una strogomina! 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 C'è voglio pensare... Questa sarà quella da 4, qua! Guarda che una strogomina! Ci ha dato un'ottima! Questa non è quella da 2, quindi deve essere quella da... Quindi c'è un 50 e 50! Qua! Eccolo! Ma perché che vuole tutti i bannati? Eccolo! Porco Dio! Sì, ma regà... Eh? Ecco, sì, vabbè, dai ragazzi, porco Dio! Ah, ma c'era questa giù! E allora ho buttato tutto! Vabbè, vabbè, vabbè... Te lo dico, se qua a fianco c'è una da 2 e dopo che perdo mi accorgo che sta qua, non ci gioco mai più, ma ti giuro! Strogom è anche un bambina! Ha messo qui come un bocchino! L'ha messo qui come un bocchino! La mette lì come un bocchino! Poesia! Eccolo qui, Giuseppe Ferrara! Lo conoscono in tutti i mari! Giuseppe! Ferrara! Ecco perché ha detto, se ce n'è una lì e poi mi erra... Guarda, guarda, ma porco Dio! Lotta tra gemelli di Sir Philip Wade. Facciamo senza radar, va bene. No radar all'Owed. Il maestro non ha bisogno del radar, ce l'ha nell'occhio! Sharingan! Non devi pensare, devi andare proprio istintivo, bro. Sto d'accordo, infatti, lì... Perché il fatto che... Questo è broken, regà, perché praticamente il potere lo sblocca a 6. A 6 di potere già sblocca. È sbroccatissimo. Rico, bentornato, Landless, grazie per i due. Ale! Questo lo leverei e lo metterei qui. Sono molto agitato. Ho capito. Questo ragazzo è in furbastra. Forse, dai! Beh, voglio dire, ci stanno pochi posti dove... Eh, non lo so. Non lo so, lì. E vaffanculo a tua madre! Quella succhia cazzi! Mi piace. Niente, il maestro invece ziccia il Biakugan, è incredibile! Il main, Sir Philip Wade! Dove sparerai? Spara bene il maestro e affonda la nave più grande di Sir Philip Wade. Ma che dici tu, questa? E io comincio ad agitarmi un pochino. Questa è... Sì, ecco, quali francesi. Ma l'abbiamo messo, ma l'abbiamo messo nello stesso punto. Qui! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo! Che rift in Cil, ma sicuro che il rift non è un bug? Lì, precisamente lì. Ah, ma c'ha de no per potere. Dramma, signori, dramma. Se sta qua sopra o qua sotto a destra potrei impazzire, eh? Buonissima situazione. Buono! Buono! Buonissimo! Eppazzire! Sto personaggio è allucinante! Dell'oro! Ah, ho capito, quindi la Madonna è una grandissima eleggiadra, mignotta! Ma in realtà non vale la pena perché gli stai a regalare i punti. Stai a regalare i punti e sto personaggio non glieli puoi regalare. No! Non ci voglio credere! Questa è una grande sfortuna! Ok. Zucco, zucco! C'ha tutto coperto, non può sbagliare, quello. No, aspetta! No, adesso faccio la celata! Ah, no, non è vero. Non posso fare la celata. Perché questo si gira a sinistra, quindi è qui. Dove, Marzò? Non è che ho il mio problema a scoprirlo. Esatto, ragazzi. Essendo una best of three, se avessi vinto, avremmo dovuto non fare un'altra partita. Una mappa molto aperta, mai giocata, oserei dire. E con la mappa ancora così, perché è così semplice sparare qui. Ed è ancora più semplice sparare da un'altra parte qui e hittare. Seriamente, se questo qua, questo e qua così, sta, penso, qui allora. Ah, peccato, allora vuol dire che è una così, certo. Vabbè, almeno hai hittato una, dai, dai, dai. Poteva andare peggio, poteva piove. Quello è il disco. Ho capito, dai, non... Ah, ma quella, Marzò, è una striscia di cocaina, hai fatto praticamente. Porco Dio, ma io ti tiravo al posto che ti giocacce oggi. Olè. Allora, tecnicamente potrebbe essere qui. Ma come fa a non essere lì? Sarò, avrò un problema. Lì, Marzò, precisa. Ho capito, ho capito. Usiamo qui. Ho capito. Ok, palazzi, senti, io questa madre voleva dar cazzo. Bello, meno male. Non sono molto fortunato nel giuoco. È tardi, è tardi. So stanco, so stanco, so stanco. No, ho miscliccato, ho miscliccato, ho miscliccato, ragazzi. Ho miscliccato. Potrebbe essere qualcosa, potrebbe essere qualcosa. Ok, ok. Ti pare che non ha un giugato qui? Non ha giugato qui. Ovviamente a fianco a quella che avevo tirato prima, ma non serve neanche dirlo. Te siamo a A, maestro. Ok, sappiamo. Ah, e non mi posso... Ah, non potevo più usare quest'altra. E che io che cazzo porco ne sapevo. Vabbè, sti cazzi, sta qua. Qua. No, era più aesthetic, porco Dio. Posso dire una cosa? Cioè, praticamente questo gioco si gioca senza comprare il DLC. I personaggi del DLC fanno vomitare. I poteri di quelli basi sono rottissimi. Te la dedico, Olive. È letteralmente insensata questa cosa. Ha vinto la Germania. Grazie. Ciao. 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 Ciao.